con Simone Romagnoli al termine del pareggio sul campo del Bologna un buon pareggio Simone perché si muove la classifica viene fatto su un campo di una squadra sicuramente importante l'Empoli esce veramente bene dal Dallara sì siamo contenti perché abbiamo fatto una bella partita e abbiamo ribattuto colpo su colpo al Bologna che è una squadra forte e abbiamo dimostrato di giocarcela come sappiamo fare noi come abbiamo già dimostrato in passato e abbiamo anche iniziato a mettere a frutto quello che è il lavoro quotidiano degli allenamenti anche in questa settimana il mister ha battuto molto su certi tasti e mi sembra che le risposte ci siano state quindi la strada bisogna continuare a perseguirla quotidianamente e poi nelle prossime partite Riccari esce imbattuto dal Dallara ma l'Empoli esce imbattuto un gran lavoro tuo e di tutta la squadra in fase difensiva è un altro segno importante ma sì sì siamo contenti di questo perché era anche un po' di partite che non capitava quindi siamo contenti ma soprattutto direi siamo contenti di aver dato una certa continuità agli input che abbiamo ricevuto in settimana e a quello che ci siamo prefissati nel lavoro quotidiano quindi continuiamo a lavorare duramente perché ci aspettano mesi impegnativi ma che vorremmo che fossero molto belli come sono stati quelli passati una settimana piena di lavoro poi arriva il Cagliari e soprattutto inizia tra virgolette un nuovo campionato la sosta è finita il mercato è lo stesso torneo ma insomma adesso i punti cominciano anche a pesare beh i punti ma sì da un certo punto di vista si può dire che i punti comincino a pesare in realtà io credo che se lavoriamo in un certo modo i punti arrivano quindi se noi sappiamo la strada che ci viene indicata quotidianamente e la perseguiamo credo che i punti arrivino credo che i punti arrivano